Me l'avete chiesto in mille, oggi facciamo un volto. Iniziamo da questo rincoglionito e cercate di capire più o meno la forma totale del viso. Cercando di modellare i dettagli piano piano, una linea di simmetria può aiutare sempre. Io personalmente comincio dal basso, non so perché ma per me ha più senso. E cerco sempre di lasciare i pezzi non finiti ma comunque ben definiti. Il naso è praticamente solo un cerchio con due narici. Cercate di immaginare le linee guida anche dove non ci sono. Seguendo quelle non potete sbagliare più di tanto, cioè almeno non viene tutto storico. Ha uno sguardo un po' da pesce lesso, quindi glielo trasmettiamo con le palpebre. Che sì, non è una roba iper realistica, cioè deve solo trasmettere quello che trasmette il tizio. Che non è un granché però vabbè. E poi cominciamo a buttare due ombre che fanno praticamente tutto. Se avete dubbi sulla vita o dove stanno le orecchie cercate di vedere delle linee. Tipo li passano per il nasino. E' continuo di queste cose qua, vedere il forno e vedere le linee. Poi vabbè io sono un cretino e quindi l'ho fatto in un punto strano del foglio e non ci sta tutto. Uso anche un po' di matita bianca per i punti luce, magari un po' una caffonata però a me piace. E gli do un po' di vita con penna gel bianca, sennò sembra che stai lì a mangiare delle pietre. E basta, più ne fate più diventate bravi. E i materiali che uso sono in bio, ciao.